Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Oggi siamo su Jurassic Park Arcade The Lost World Oggi siamo su Jurassic Park The Lost World Arcade Allora ragazzi questo gioco qua è stato veramente difficile riuscire a farlo girare E riuscire a installarlo senza prendere virus Ma ce l'ho fatta E questo gioco qua è semplicemente Avete presente le arcade che sono presenti all'interno dei supermercati O quelle là che tu tipo hanno le armi e tu le prendi per mirare Ragazzi sono riuscito a installarmelo sul computer Ed è un gioco che io guardavo da piccolino Vi giuro mi guardavo i video E ci volevo sempre e fidatevi se vi dico sempre giocare Allora non perdiamo tempo ragazzi lasciate like e iscrivetevi e condividete Expert beginner facciamo beginner Così non dovrebbero essere troppo difficili Allora ragazzi il gioco è in inglese e i sottotitoli sono in giapponese Al massimo ve li metto io Attenzione qua siamo con la nostra auto Buongiorno Dobbiamo salvare Ian e Sara Perfetto i raptor già ci attaccano Mi devo ricordare i tasti Ok no voglio prendere quella barretta Wow 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 ok ok no 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 Ragazzi vi avviso questo gioco è veramente No wow wow Aspetta aspetta ok uno Ok tre quattro easy 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 Aspetta ok abbiamo preso la barretta Dovrebbe aiutarci Ho fatto esplodere il barile Ti ho salvato bro Dobbiamo andare in laboratorio per trovare Ian e Sara No aiuto altri raptor Aiuto ricarica Ok spara 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 Aiuto da chi No no bro ti salvo Ok easy Ok altri raptor Perfetto continuiamo a sparargli No 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 Eh il bro è stato divorato mi dispiace No 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 Ok ragazzi è pieno di raptor Aiuto eh mi hanno Eh ragazzi aiuto Ok Uh ok ok vediamo di no Vabbè questi Wow 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 Ok Andiamo da lui ci sta chiamando Sono andati da quella parte Oh oh Wow di rufusauri Di rufusauri Aiuto Spara 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 No 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 Aia aia che male Ok Uh no 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 Ok piano 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 Senza morire magari Ho ucciso tutto Ok Scappiamo andiamo via Oh dove stiamo andando Spara 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 Ok Success Daglie Abbiamo completato Il primo capitolo Perfetto Mentre passiamo in mezzo agli stegosauri Ciao compi No non mi attaccate Per favore Aia Eh respawniamo qui Grazie Aia Beh ovviamente ragazzi C'ho le vite infinite Perché Senza farci mangiare Grazie Oh È difficilissimo Beccarli Ok No non riesco a Morite C'ho proiettili infinite Quindi mi posso permettere Di sparare Quanto voglio Ah spara lì No niente ragazzi Non riesco a mirare Wow Ok Ce l'abbiamo fatta Altri raptor Ed è bellissimo Perché hanno Hanno la colorazione De Del novel Quindi Sono anche accurati Aia Cos'è Oh oh la barretta La barretta Nei non sono riuscito a prenderla Uh siamo attenti Dov'è Ok preso Attenzione Buona 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 Uh A chi sparano I raptor che scappano Da chi Stiamo bene Sì stiamo Cioè oddio più o meno In realtà Il t-rex Oddio Oh no Poverino No Oh la Ma stai tranquillo Frate Scappa Scappa Via 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 Oh il t-rex ci insegue Spariamogli ragazzi Ah è la femmina Comunque Ok Eh la madonna Non riuscirò mai A beccarti zio Ok Ci abbiamo fatta Brutto Schifoso Dobbiamo beccare i punti deboli Ah non riesco Non ce la faccio Ok Sì Ragazzi scusatemi Ma è veramente difficile mirare Wow Eh no Eh Aia Aia Che male Continuiamo a sparargli Perché gli leviamo vita Quindi Brutto Schifoso Muori Oh dove va Ci supera Continua a sparare Ok Ci ha lasciati stare Credo No è lì Wow Brutto Ladro Schifoso Muori Muori Ok Continua a sparargli Sfondalo di botte Ok Preso Sì Wow Ce l'abbiamo fatta Ciao Il gioco Non dovrebbe durare molto Penso una mezz'oretta Ok Abbiamo completato il capitolo 2 Adesso siamo Oh sul lakeside In un lago Va bene Andiamo al lago Oh 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 I gallimimi Ciao Oh parasauro Bellissimo il parasauro Posso spararti Posso sparargli Ciao Questi dovrebbero essere Gli apatosauri Credo No Ops Eh il nostro collega è morto Wow 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 Sparagli Lasciami stare No Ancora 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 No Aia Aia che male No respawniamo Grazie Ok Ce l'ho fatta Lasciami stare Brutto schifoso Ok Aia La coda La coda La coda Cerchiamo di non Ok Ce l'abbiamo fatta Ok Ce l'ho fatta di nuovo Ok Ce l'abbiamo fatta Eh niente da fare Non ce l'abbiamo fatta Eh adesso Verremo attaccati Da miliardi Di raptor Siamo impantanati Ovviamente Senza morire Senza morire Ok Ricarica Ok Così Wow Oddio è pieno È pieno È pieno È pieno È pieno È pieno È niente Dai 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 Ah Ah Ok Ce l'abbiamo fatta Ok Ripartiamo Grazie Senza venire bloccati Da tutto Ho preso quella Non so cosa sia Ma Ah una Granata Bellissimo Granata Easy zio Top granata Vai vai Di granate Aiuto Le clanate Le clanate Le clanate Eh niente Ragazzi Non è molto Wow Oh Ops Non volevo Ho ucciso il tipo in moto Non era mia No Forse lo dovevo Cioè Probabilmente lo dovevo salvare Mi dispiace Zio Mi dispiace È che c'ho il grilletto facile Eh Ormai vedo tutto Come dei raptor Aiuto Oh ragazzi Cioè Mi sto spaventando Per dei raptor Digitali Continuate a sparargli Magari non moriamo Che comunque Quanti raptor ci sono Cioè Aiuto Eh vabbè Oh ma quanto faccio schifo Raga Ma guardate Cioè ma non riesco Proprio Oh 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 Eh la madonna Eh questo qui è fortissimo Tre hit Ci sono voluto Dove vanno I pachi I pachi Spara i pachi I pachi Ci vogliono due hit Per ucciderli Aiuto Continua a sparare Ai pachi Perché fanno rumore Del t-rex Vabbè Spara ai pachi Ok Ce l'abbiamo fatta Abbiamo sparato ai pachi E siamo veramente forti Uh Lago Ma sbaglio O c'era Qualcosina Nel lago Oh 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 Eh esatto Eccoli Oh è possibile Che questi raptor Sono ovunque Ragazzi Cioè Ok Spariamo No No Non mi avrete Grazie Oh wow Uh Via ma vai via Dei no suco Guardalo Schifoso Oh mio dio Raga A parte che non riesco a ettarlo È enorme ragazzi Vai Spara al Dei no suco No ragazzi Fa paura Vi giù Ehi Ehi Ti ho visto Schifoso Lurido Ok Dov'è È qui È qui È qui Eccolo Seguiamolo Seguiamolo Eccolo Uh Oh Aia Ho lisciato in pieno Dov'è Wow Uh Ok Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Dov'è Eh qua sotto E qua sotto Aspetta eh Eccolo Eccolo Daie Mamma mia ragazzi Il Dei no suco Veramente bello Wow E come faccio a beccato Ok l'ho beccato Wow Si muove molto Aiuto Ok Ragazzi cioè voi non avete idea Io sto Ah la barretta L'ho vista troppo ma Eh Aia Io sto sparando a caso Letteralmente Ok preso Ultimate Ultimate Perfetto Stai a terra Dei no suco Stai a terra Oh ancora in vita Wow Sparagli Wow Ah Spara Ok Oh Credo sia morto Credo Ce l'abbiamo fatta Dei no suco Ragazzi Ok Siamo Enter the dragons Non so dove siamo Entrata comunque Ci stiamo avvicinando A Dia E sa A Ian E Sara Wow Bellissimo Questo è Siamo sul sito B Vi ricordo Su Isla Sorna Wow Ah questi qua sono Ok grazie La barretta La barretta Aia La barretta Per favore Voglio la barretta Presa Ok Dovremmo avere quindi Cos'è il 10% di attacco Non lo so cos'è Ah Ok questi qui sono super veloci State a terra Ok Oh Ok Beh ovviamente Facciamo fuori tutti questi raptor Che fanno un casino assurdo Stai a terra Bro Stai a terra Salvato Lightning Cos'è Vabbè continua a sparare Zio Lightning Bellissimo Spara Spara lightning Spara Possiamo sparare all'infinito Nel mentre Ok Ci abbiamo fatta Easy Wow Ok Non mi spavento Perché ormai Ormai sparo Ancora prima di sapere Se verrà fuori qualcosa Perché tanto è palese Esatto È palese È palese Io vi sponchi No Eh ha chiamato aiuto Oh aiuto Questi qua sono veloci Ah Sono velocissimi Ok No 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 Salviamolo dai compi Eh bro Eh mi dispiace Ti volevo salvare Oh Oh Dobbiamo bloccare la porta Qual è il codice? Eh che ne so io Dimmelo Uno Nove Due Ok Mi son perso Credo di averlo però Allora uno Due No allora Tre Otto Sette Eh ho sbagliato Eh sono scarso Eh sono scarso Non ho guardato Com'era Oh 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 wow Oh 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 Via Eh vabbè ragazzi Cioè Così Penso siano Ian e Uh 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 Ok Ah devo sparare alle aperture Ok Perché sono così? Ok Ce l'abbiamo fatta Oh 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 Abbiamo Oh oh Eh ma ragazzi ma non Cioè vi giuro è difficilissimo Fidatevi Sembra una cavolata Ma non lo è Ti apri? Ok ce l'abbiamo fatta Wow Sto Sto fallendo veramente tanto Ok Buongiorno Ok Stage 3 Capitolo 2 Mentre stiamo facendo Veramente tanti ponti Court Ok Ah siamo a casa loro C'è questo capitolo Uh Loro sono andati in quella Preso Sì Ok Abbiamo preso una Scorciatoia Sennò ce la dovremmo Suppongo avremmo dovuto fare a piedi Wow Gli ptero Eh gli ptero Ma non sembrano ptero Sembrano tipo Qualcos'altro Oh eh A parte che resistono a più colpi Ok Ok Questi qui no Alcuni sì Ah brutto Schifoso Che rumori fanno Tipo le Le porte Senza Sì comunque ci vogliono Due hit Aia Senza Ok Sì ce la saremmo dovuti fare a piedi Sarebbe stato un casino Oh oh Non mi piace Uh Altri raptor Ia e Sara Muoversi Perché No Aia Aia Senza morire Senza morire Perfetto Senza morire Un cavolo Uh Continuo a sparare Adesso se ricordo bene Dovrebbe Spuntare Ian Sara Scappate Sta arrivando Il carnotauro Eccolo Ciao carno È un tipo Di dinosauro Camaleonte Perché ragazzi Mamma mia Quanto sei figo Che rumori fai Zio Scusa Oh mi sta caricando Oh Oh mi carichi Ok L'abbiamo fermato Che rumori Ok Perché ragazzi Vi spiego Nel mentre che lo uccido Perché è Tipo camaleonte Perché nel Il novel Nel libro I carnotauri Hanno appunto Questa Particolarità Di poter Diventare Tipo camaleonte Quindi potersi Camuffare Ok Ok Arriviamo Pro Arriviamo Paraparapaparapara Parapaparapaparapaparapara Aia La musica è troppo bella Ok Metà vita al Carnotauro ragazzi Ha detto leviamoci da qui Attenzione Vai via brutto schifoso Uh attenzione Ok Aia Ops ho fatto una cavolata Ah eh si Eh ho preso la barretta scusate Ma ce ne sono due O forse è lui che si teletrasporta Siamo caduti comunque Torniamo sull'ascensore Ok Brutto schifoso No non è vero mi piace in realtà Oh Schifoso Ok Ok ce l'abbiamo fatta Wow Eh vabbè ma chi mana Ok questo era unexpected Ah aiuto Un altro Ma basta Dobbiamo prenderci cura di questo cucciolo Aia Wow No Carnotauro brutto cattivo Cattivo non ti voglio uccidere Dai Mi dispiace Ok Stai a terra Mi dispiace bro Guardate guardate i suoi passi felpati come Uh Muori Perfetto Morto si No Poverino il Carnotauro Eh vabbè mi dispiace carnotauro non volevo ucciderti Ok Qualcosa è sopravvissuto Aia Aia Uh siamo alla roulotte Ok Ricarichiamo Eh vediamo di non ucciderlo Aia Perché prima l'ho ucciso Adesso vorrei non Senza magari Ok Siamo riusciti a salvarlo Life up Ah abbiamo una vita in più Grazie Eccoli gli schifosi Compi Uccidili Quanti sono Basta Finiti Ok Entriamo nella roulotte C'è qualcosa qui Oh Ma come Uh 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 Ok Perfetto Oh Wow Oh oh Questa è la madre E questo è il padre Lasciami stare Grazie Lasciatemi stare Brutti Cattivi So che volete il figlio Ma non lo avrete Ho ucciso il figlio Non credo La La mamma è molto arrabbiata Oh oh Eh bro Oddio Oh Ce l'abbiamo fatta Easy Oh Dietro Schifoso No Cioè no Schifoso nulla Ha difeso il suo figlio Oh oh Siamo inseguiti da entrambi Oh Eh Questa è la madre Questa è la madre Allora Spariamo alla madre Non mi fai paura Anche se è notte fonda E non si capisce niente Muori Ti continuo a sparare Sei già a metà vita Sei troppo scarsa Zio Perfetto Continuiamo a sparargli No 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 Ok ci abbiamo fatta Eh la madre ci lascia Mi dispiace No credo sia No è ok Ancora in vita Sta Sta chiamando il suo Oh oh Sta chiamando il marito Credo sia un po' arrabbiato Eh sì che si avvicina Sì Uh Girati Girati bro Wow 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 E ci ha attaccato Eccolo Suppongo che il padre Sia un pochettino più forte Uh Oh Ok entriamo Ok Meno male Non siamo da soli Oh oh Ahia Poverini Wow Sparagli 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 Ok Aiuti Continuo a sparare in realtà Eh non dovrei Aspettare Ok Oh è sotto È sotto È sotto È sotto È schifoso No stavolta Aia Brutto Lurido Eh mo è difficilissimo Oh L'ultimo pezzo Eh l'ho lisciato Sono proprio scarso Ok Continuo a spararti io eh Non è un problema Cos'era Ok Ma bro cosa stai facendo Ti stai facendo ammazzare Oh oh Uh Ce l'abbiamo fatta Scappa Eh no c'è un muro Eh ragazzi è la fine È la fine Oh Ciao Oh Beh noi Continuiamo a sparare Non è Non ci facciamo problemi Per nessuno Wow Ok Ci siamo salvati No Non ti mangiare Il tipo Recuperi vita Dimmi di no per favore E invece si Recupera vita Eh vabbè ma non puoi Ma non ti puoi mangiare I pezzi di metallo Frate Uh Ok Aia Eh vabbè Dai ha pochissima vita Brutto Schifoso Muori Uh Ce la faccio più Ehi Dove vai No bro Devi rimanere con me Se ne va Aia Wow Sparagli Ok Woo Eh no Eh bro Devi morire Uh Ce l'abbiamo fatta Oh l'elicottero Easy Sì Ian e Sara Ci sono venuti a salvare Daie raga Ok Ok Oh ragazzi Per essere un arcade È fatto da dio Cioè bellissimo Veramente bello Bene 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 Ragazzi Allora Io direi Che per oggi è tutto Lasciate like Iscrivetevi E condividete Per aiutare il canale a crescere E detto questo Noi ci becchiamo in un prossimo video Ciao ciao Ciao